buongiorno ragazzi e benvenuti ad un'altra lezione di grammatica oggi studieremo due nuovi complementi il complemento da gente e di causa efficiente osserviamo la nostra frase di partenza è sempre quella luca mangia la mela iniziamo individuando il predicato mangia mangia un predicato verbale voce del verbo mangiare il soggetto di mangia chi è che mangia luca luca è il nostro soggetto mettiamo insieme soggetto più predicato luca mangia ci chiediamo che cosa la mela la mela è il nostro complemento oggetto questa frase è alla formativa infatti il soggetto luca compie l'azione di mangiare proviamo ora a trasformare la frase dalla formativa alla forma passiva la mela è mangiata da luca proviamo ad analizzarla individuiamo il predicato è mangiata voce del verbo mangiare quindi è un predicato verbale chi è il soggetto di è mangiata la mela la mela è il nostro soggetto mettiamo insieme soggetto più predicato la mela è mangiata che cosa ci chiediamo da chi da luca da luca è il nostro complemento da gente nelle frasi di forma passiva il complemento che risponde alla domanda da chi si chiama complemento da gente il complemento da gente dobbiamo ricordare uno si trova solo nelle frasi passive quindi se noi ci accorgiamo che una frase passiva quasi sicuramente ci sarà un complemento da gente o come vedremo di causa efficiente il complemento da gente indica la persona che di fatto compie l'azione la mela è mangiata da luca la mela è il soggetto che subisce l'azione di mangiare da luca luca è di fatto colui che agisce e quindi si chiama complemento da gente se invece però di avere una persona abbiamo un essere inanimato come per esempio un oggetto il nostro complemento prende il nome di complemento di causa efficiente quindi se è una persona un animale un essere animato si chiama complemento da gente se è invece un essere inanimato si chiama complemento di causa efficiente il complemento da gente risponde alla domanda da chi il complemento di causa efficiente risponde alla domanda da che cosa se fin qui è tutto chiaro vediamo insieme alcuni esempi primo esempio luca ha cantato una canzone commovente questa è una frase di forma attiva perché perché il soggetto luca compie l'azione di cantare quindi il nostro predicato verbale è ha cantato il soggetto è luca mettiamo insieme soggetto più predicato luca ha cantato che cosa ci chiediamo che cosa una canzone commovente complemento oggetto più attributo proviamo ora avvolgere la frase in forma passiva una canzone commovente è stata cantata da luca è stata cantata è il nostro predicato verbale il soggetto è una canzone commovente mettiamo insieme soggetto più predicato una canzone commovente è stata cantata siccome la frase è di forma passiva ci chiediamo una canzone commovente è stata cantata da chi da luca e questo è il nostro complemento da gente luca infatti è una persona vediamo questo secondo esempio una frana ostruiva la strada questa frase è di forma attiva ostruiva è il nostro predicato verbale chi è il soggetto di ostruiva una frana mettiamo insieme soggetto e predicato una frana ostruiva ci chiediamo una frana ostruiva che cosa la strada la strada è il nostro complemento oggetto volgiamo la frase al passivo la strada era ostruita da una frana era ostruita è il nostro predicato verbale e questo predicato è di forma passiva il soggetto infatti la strada subisce l'azione di ostruire mettiamo insieme soggetto più predicato la strada era ostruita ci chiediamo da che cosa da una frana siccome la frana è un essere inanimato un da una frana è il nostro complemento di causa efficiente vediamo ora questa frase il postino ha consegnato il telegramma individuiamo il predicato ha consegnato voce del verbo consegnare predicato verbale chi è il soggetto di ha consegnato il postino il postino compie l'azione di consegnare quindi una frase di forma attiva mettiamo insieme soggetto più predicato il postino ha consegnato e ci chiediamo che cosa il telegramma il telegramma è il nostro complemento oggetto in questa frase individuiamo il predicato è stato consegnato voce del verbo consegnare quindi è un predicato verbale chi è il soggetto di è stato consegnato il telegramma siccome il soggetto subisce l'azione di consegnare la frase è di forma passiva mettiamo ora insieme soggetto più predicato il telegramma è stato consegnato da chi dal postino dal postino sarà dunque il nostro complemento da gente infatti il postino è una persona ancora i lampioni illuminano la strada individuiamo il predicato illuminano illuminano è voce del verbo illuminare per cui è il nostro predicato verbale chi è il soggetto di illuminano i lampioni poiché il soggetto compie l'azione di illuminare questa frase è di forma attiva mettiamo insieme soggetto più predicato i lampioni illuminano ci chiediamo che cosa la strada la strada è il nostro complemento oggetto se la frase invece fosse la strada è illuminata dai lampioni individueremmo il predicato in è illuminata voce del verbo illuminare per cui abbiamo un predicato verbale chi è il soggetto di è illuminata la strada siccome la strada subisce l'azione di illuminare la nostra frase è di forma passiva mettiamo insieme il soggetto più il predicato verbale la strada è illuminata ci chiediamo da che cosa dai lampioni dai lampioni è il nostro complemento di causa efficiente i lampioni infatti non sono delle persone che si muovono sono degli esseri inanimati vediamo ora gli esercizi che ti propongo di svolgere il primo nelle seguenti proposizioni riscrivi in rosso i complementi da gente in blu i complementi di causa efficiente durante la notte luca fu svegliato dal sibilo siccome il sibilo è un oggetto in qualcosa di inanimato lo evidenziamo in blu perché? perché è un complemento di causa efficiente la festa sarà organizzata dalle mamme poiché le mamme sono delle persone lo evidenziamo in rosso perché è un complemento da gente il secondo esercizio invece vi chiede di svolgere l'analisi logica delle frasi dell'esercizio precedente durante la notte luca fu svegliato dal sibilo del vento individuate il predicato individuate poi il soggetto mettete insieme soggetto più predicato luca fu svegliato che cosa vi chiedete? da che cosa? dal sibilo complemento di causa efficiente di che cosa? del vento complemento di specificazione durante la notte risponde la domanda quando? proseguite così per tutte le frasi dell'esercizio 1 il terzo esercizio vi chiede di trasformare le frasi dalla forma passiva alla forma attiva la prima frase durante la notte luca fu svegliato dal sibilo del vento diventerà il sibilo del vento svegliò luca durante la notte infine svolgete l'analisi logica delle frasi dell'esercizio 3 il sibilo del vento svegliò luca durante la notte iniziamo sempre dal predicato verbale individuiamo poi il soggetto chi è che compie in questo caso l'azione di svegliare il sibilo mettiamo insieme soggetto e predicato il sibilo svegliò cosa ci chiediamo? chi? luca luca è il nostro complemento oggetto il sibilo di che cosa? del vento complemento di specificazione il sibilo del vento svegliò luca ci chiediamo quando? durante la notte ecco noi ci rivedremo su zoom giovedì per giovedì vi chiedo 1. di ascoltare bene questo video 2. provate a svolgere gli esercizi e se non capite qualcosa o se non vi vengono giovedì ne parliamo insieme intanto un abbraccione mega a tutti quanti buon lavoro e buone giornate grazie a tutti